Il sacrificio. Vi ricordate una volta? Feci un video che si intitolava La verginità non è un valore. Sì, perché per alcuni il fatto di essere vergine rappresenta un valore e per molti altri anche il sacrificio rappresenta un valore. Allora, intanto, come giustamente hai fatto te Enrico in questo video qui, di cosa stiamo parlando? Cioè, cosa si intende per il sacrificio? Io per sacrificio intendo la sofferenza, sudare, fustigarsi i coglioni, ma la gente intende questo termine in modo un po' arbitrario. Ad esempio, se tu fai un certo sforzo per un amico per fargli un piacere, questo può non essere un sacrificio vero e proprio, perché tu hai piacere a fare quello sforzo, ad aspettare un'ora che il tuo amico abbia dato l'esame, lo fai con piacere in un certo senso. Allora mi venivano in mente altri esempi, tipo quando fai uno sport, vai al mare e ti fai una nuotata, magari fatichi, però quello non è un sacrificio. Mentre se ti devi alzare dalla poltrona mentre giochi alla Playstation, anche per rispondere al telefono, andare al bagno, quello può essere visto come un forte sacrificio. Quindi, chiariamo subito le cose. Il sacrificio è relativo, ma ciò che comporta, diciamo, un'attività volta a un piacere personale, non si può definire come sacrificio. Ed è una cosa molto soggettiva, perché anche la stessa attività sessuale comporta fatica. Tutte le attività che comportano movimento sono faticose in qualche modo, quindi comportano un certo sacrificio. Ora sto usando qui sacrificio come sofferenza, mentre la parola sacrificio è usata anche, per esempio, come mancanza. Io sacrifico questa cosa. Si può dire, per analogia, io sacrifico il fatto di potermi riposare, quindi sacrifico la mia libertà. Comunque non stiamo a intortarci troppo. Io, quando intendo la parola sacrificio, la intendo come qualcosa di negativo. È difficile percepire, a livello mentale, una cosa solo negativa, perché tutte le cose umane contengono una parte positiva e una parte negativa. Però, dai, si può pensare a un sacrificio che sia proprio, diciamo, per il 99% negativo, che tolta la parte negativa rimane veramente quasi niente. Ecco, quello è ciò che io intendo per sacrificio. Se no, si fa veramente molta confusione. E un errore, secondo me, da non fare assolutamente è non considerare la soggettività del sacrificio. Perché una cosa che è negativa per me può essere positiva per un altro. Così, come una cosa che è molto negativa per me può essere poco negativa per un altro, viceversa. Oppure un certo tipo di lavoro che per me comporta fatica fisica, per un altro, magari, che più forma fisicamente, può comportare fatica mentale, organizzativa. Quindi è importante, quando si giudica il sacrificio altrui, cercare di essere un minimo empatici e di non vedere le cose solo dal nostro punto di vista. Purtroppo questo è un errore umano molto tipico. Però sarebbe bene non farlo. Perché capire è sempre importante. Capire l'altro è importante, anche in questo caso. Capire non significa giustificare. Non è che se uno ti deve 200 euro te capisci che è la sua difficoltà e non vuoi più i soldi. No, i soldi ti ripigli, però capire è sempre utile. E anzi, io riguardo il tema del sacrificio mi fermerei qui per ora. E affronterei in un video successivo il concetto di sacrificio come valore. Perché ci sono delle cose da dire qui e da stare molto attenti. Non farci fare il lavaggio del cervello, per intendersi, ma vedere le cose per quello che sono in modo da poterne prendere l'essenziale. Comunque ne parleremo. Ora, fermiamoci qui. Concetto chiaro. Per sacrificio si intende non un sacrificio per modo di dire, ma una vera e propria sofferenza fisica e psicologica. E considerare che questo sacrificio è relativo rispetto alle varie persone. Ebbene, fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima. Ciao.